I sentori erano positivi la settimana scorsa e sono positivi anche quest'anno, questa settimana. La dimostrazione non sono i sentori perché è dimostrare in campo e quindi il sentore è positivo sempre perché abbiamo piena fiducia, però dobbiamo dimostrare in campo. Ritornare qui a Ficco con una mentalità operaia, una mentalità di sacrificio e quindi questo potrebbe aiutarci. Ecco, come ha assorbito la squadra? Magari tu come allenatore la squadra ha la sconfitta netta di domenica scorsa. Penso che quello che ha accaduto domenica avrebbe ammazzato anche un toro perché ricordo pochissimi episodi nella mia carriera, forse sono stato fortunato di perdere 3-0 fino a prima te e al dodicesimo è già 2-0. Se uno ha un po' di anima, ma un po'